Buon pomeriggio, siamo qui in piazza Trento Trieste, sempre con il nostro maestro Luigi Amerio che sta riproducendo un'altra delle nostre storie di fontanile. Qui abbiamo la trebbiatura. Maestro, siamo di nuovo con un altro bellissimo dipinto su questa piazza Trento Trieste. Eh sì. Qui i committenti chi sono? Sono il signore Gaglione. Gaglione, è bello. Signore Ornella e Minfo. Benissimo, possiamo avvicinarci? Certo. Ecco qua, sarà uno spettacolo, davvero un dipinto bellissimo. Grazie. Grazie a voi. Allora alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.